Ciao a tutti, oggi nuovo unboxing, andiamo a vedere qui cosa abbiamo comprato, vedete un supporto per la bicicletta per tenere il cellulare sul manubrio, vedete anche qui si vede com'è fatto all'interno, andiamo subito ad aprire la scatola, non in comprante questa scatola, vediamo i pezzi che troviamo all'interno, vedete troviamo subito la molletta, il mollettone che serve per tenere il cellulare all'interno, vediamo è dotato di gommini per non far scivolare il cellulare, soprattutto non ruinarlo, in pratica adatto a quasi tutti i tipi di cellulare, poi vediamo quest'altro pezzo, quest'altro invece vediamo come funziona, serve per attaccarlo a manubrio, in pratica si inserisce all'interno il manubrio, vedete anche qui dotato di gommini con questa vite e poi si stringe a seconda della grandezza del manubrio, vedete inoltre qui è dotato di tre diverse grandezze come vedete per adattarlo in pratica a qualsiasi tipo di manubrio, poi andiamo a vedere come funziona unito, in pratica si inserisce questa rondella qui, poi la sfera, si collegano i due pezzi, dopodiché si avvita in questo modo, qui si avvita così, per stringerlo in modo che non cade, non si stacchi da supporto della bicicletta, vedete, vedete in pratica poi possiamo orientarlo come vogliamo, molto pratico, quando provarlo sulla bici e poi farò vedere come funziona con il cellulare, magari anche se si possono fare delle registrazioni direttamente dalla bici, bene per oggi è tutto, vedete abbiamo fatto questo unboxing, ci vediamo al prossimo video.